Passiamo adesso all'Alleanza delle Cooperative Italiane. Sono presenti Angelo Chiorazzo, Vicepresidente Associazione Generale Cooperative Italiane, Toni Della Vecchia, Capo Servizio Legislativo e Legale Conf Cooperative, e Mauro Iengo, Responsabile Ufficio Legislativo Lega Cop. Per alleanza interviene? Angelo Chiorazzo, divido l'intervento col collega Iengo in due parti. Prego, avete sette minuti a disposizione. Grazie Presidente, grazie onorevoli parlamentari. Ci tenevo a dire che cos'è il movimento cooperativo oggi? In tutto il mondo sono attivo oltre 2,6 milioni di imprese cooperative che garantiscono più di 250 milioni di posti di lavoro, mettendo insieme oltre un miliardo di soci e generando ricchezza per 3.000 miliardi di dollari annui. Le cooperative in Europa sono oltre 176.500, con oltre 141 milioni di soci e questo significa che più del 17% dei cittadini europei è socio di una cooperativa. Il fatturato complessivo, che è di circa 1.000 miliardi di euro, è maggiore del PIL di Finlandia, Danimarca, Norvegia e Svezia messi insieme. Le cooperative attive in Italia sono 78.300, con oltre 13 milioni di soci e quasi 1.300.000 occupati a fine 2016. Realizza un giro di affari aggregato pari a quasi 161 miliardi di euro. L'economia cooperativa rappresenta l'8,5% del PIL italiano e negli anni della crisi, 2008-2013 in particolare, gli occupati sono cresciuti quasi del 7%, 8 su 10 a tempo indeterminato, dimostrando che la forma cooperativa è stata la più resiliente alla crisi economica globale, iniziata ormai oltre 10 anni fa. Le cooperative sociali in Italia rappresentano una parte importante di questa realtà. Sono attive oltre 12.000, fatturano 12 miliardi di euro l'anno e rappresentano quasi l'1% del PIL italiano. A questa cifra vanno aggiunte le altre imprese sociali non cooperative. Le cooperative sociali di tipo A e B in Italia occupano 400.600 lavoratori, dei quali oltre 300.000 a tempo indeterminato. Bisogna tenere presente che in Italia la cooperazione sociale e sociosanitaria eroga servizi di welfare a 7 milioni di persone ogni giorno. Io amo sempre ripetere che se la mattina l'Italia si mette in moto è grazie ai tanti operatori del movimento cooperativo italiano che si occupano dei bambini in difficoltà alle persone in fin di vita, in tutta quella fascia di tali difficoltà. Le cooperative sociali entrano a pieno titolo nel terzo settore. Questa riforma ci trova, diciamo, con qualche indecisione e correzione che riteniamo assolutamente necessaria e abbastanza favorevoli. Grazie.